L'ex arbitro internazionale Paolo Bertini sarà il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Arezzo. Con lui nella squadra arriva anche Michael Varutti, un breve passato da giocatore amaranto. Varutti concluso di recente il corso di formazione organizzato a Coverciano. Dopo domani prevista una conferenza stampa di presentazione nella sede della società dove saranno i vertici ad illustrare le finalità di un progetto che vede allargare l'impegno del suo delizio con due figure di grande esperienza e conoscenza nel mondo del calcio. Paolo Bertini non ha certo bisogno di presentazioni, arbitro della stizione di Arezzo, ha bruciato le tappe arrivando ai massimi livelli sia italiani che internazionali. Impegnato attualmente anche in Consiglio Comunale dove ha la delega per la giostra. Bertini dovrà coordinare tutto il settore che vede la conferma del responsabile tecnico Giorgio Contu. Tornando all'ex Fistietto ricordiamo che Bertini ha diretto 110 partite in Serie A. Fu coinvolto nell'intiesta di Calciopoli che gli costò la sospensione dell'attività da parte dell'AIA ma venne assolto dalla CAF mentre nelle aule di giustizia vinse una lunga battaglia che lo ha portato fino al giudizio della Corte di Cassazione. Michele Varutti ha vestito la maglia dell'Arezzo nel 2018, fu costretto a lasciare il calcio per problemi cardiaci.